Però pare che ci sia una spark Ciao a tutti ragazzi ben ritrovati nel mio canale Sono Blaziken68 Benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Dragon Ball Legends Poiché quest'oggi Finalmente torniamo con un nuovissimo Legends Rising all'interno del gioco Ed infatti l'avrete visto Sicuramente in game O insomma lo starete vedendo adesso Eccolo qui abbiamo il Legends Rising Volume 7 Dedicato a Gotenks Super Saiyan di terzo livello Ma attenzione Anche a Super Buu Non sto manca a dirvelo A noi servono soltanto praticamente Gotenks o Super Buu Anche se puntiamo in realtà Molto di più Gotenks Personaggio che tra l'altro Sembra molto molto interessante Sembra molto forte Ma attenzione Non cambia gioco Non brecca gioco ok E' un personaggio secondo me Molto più sulla difensiva A prima vista ecco Piuttosto che sull'offensiva Il che è molto strano Chiamandosi Gotenks Super Saiyan di terzo livello Dokkan diciamo che ci ha abituati A tutt'altri Gotenks Però comunque sembra molto interessante Noi ovviamente proveremo a cercarlo Sì è che dire Io direi di partire Prima di tutto con la singoletta giornaliera Che vi ripeto Il nostro trend in genere è Ogni Legends Rising Ogni nuova batch In video singoletta giornaliera Mai trovare subito il personaggio Quelle sono cose dedicate ad altre persone Ok Non siamo noi fra quei fortunati Però Non si sa mai Cerchiamo almeno di trovarlo In una delle multi che faremo eh Vi dico allora Stanzieremo comunque delle Crono Crystals limitate Perché secondo me Van ben limitate all'interno di questa batch Assolutamente non va spese tutte le Crono Crystals Io ne possiedo Vediamo dopo questa singola 14.935 Va bene Mi sa che ne stanzieremo Al massimo 4.000 Non di più Quindi non scendiamo sotto le 10.000 Va bene Tra l'altro Abbiamo anche le singolette da fare nel Rising Girls Quindi ce le andiamo a fare Non si sa mai Va bene Una navicella Schipiamo direttamente tanto Solita hero Mi faccio anche la singoletta nel Come si chiama Nell'Ultra Space Time Va bene Anche questa è andata Signori Io direi che il momento È più o meno arrivato Abbiamo ovviamente La prima batch Diciamo con Multisummon Da 1000 Crono Crystals Ovviamente Ma attenzione Rispetto a questa qui normale Con possibilità Anzi con garanzia di trovare 999 Z power Del personaggio Quindi Se riuscissimo a trovare Uno fra Gotenks E Super Buu Praticamente li troveremo già A 3 stelle Quindi ottimo Signori Porta fortuna Mi raccomando Secondo me ti sei ricaricato Un pochino In questi giorni Speriamo Speriamo Signori L'ho fatta partire Speriamo che non ci tiri Di nuovo 2000 Crono Crystals A Multi Legends Come fece con Gojeda Altrimenti Beh Cielo rosso Cielo rosso Con Cielo Cielo dai Cielo rosso Con 3 navicelle Freezer che però evita Pool blu Niente Super Saiyan E già L'animazione Non è che sia Incredibile Allora Ci teniamo Le extreme Comunque vi dico Ce le teniamo E attenzione Ce le teniamo Perché Si sa mai che riusciamo A trovare qualche extreme Buona che ci serve Va bene Terza hero Ancora hero 4 Kabba Extreme Vediamo Beh Non male Non male Caspita 5 C18 Che spero Riusciamo a portare Su di stelle Spero In realtà mi servirebbe Di più numero 17 Perché avete visto Che sto utilizzando Ultimamente il team android Ed è molto Molto interessante Come team Altra extreme Vediamo Va bene Ditemi che stelliamo Uno dei due No Non stelliamo 18 Ditemi che stelliamo Oh buono Stelliamo 6 La 6 stelle Va bene Prima multi Shaftata Prima multi Andata Maluccio Purtroppo Signori Seconda multi Per noi Seconda multi Per noi Dai Gotenks Per favore Cerca di Non farti Io ti dico Oltre quello Che ho detto Prima Non vado Oh bravo Vegetta Bravo Dai Attenzione però Perché c'è Un po' di roba Qua dentro Quindi Ce ne servirebbero Due Se non una Subito Mannaggia Stavo Stavo per San Gotenks Effettivamente Non ho specificato Il terzo Livello Sto maledetto Ce l'ho già 5 stelle Sto maledetto Sto maledetto Maledetto Che non è altro Maledetto Va bene Ho perso pure il conto Caspita Ho perso pure il conto Extreme Eh no Con questa 18 Vabbè Guarda che buona Per le femmine Mamma mia Che Dai E ce l'ho 5 stelle Quel coso 6 stelle Per 18 Ovviamente Non aumenta La zability Caspita 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 Signori Altre due multi A disposizione O la va O la spacca Poi si va Tutto di singolette Giornaliere Ve lo dico Quindi Gotenks Carissimo Vorrai uscire Bene Non vorrai uscire Mi dispiace Mi dispiace Bro Mi dispiace davvero Pull blue Super Dai 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 Speriamo 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 Speriamoci Speriamoci Su Speriamoci Su sta multi Va bene Due Dai 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 Speriamoci Su sta multi Speriamoci Non la sento proprio Va bene Freezer Da sta sta sparking Dai Da sta sta sparking Da sta Eccola Super boo Va bene Super boo Però volevo Goten Stavo già per esplodere Super boo Io volevo Goten Stavo già per esplodere Ah Va bene però Dai Almeno una nuova ce la siamo portati Caspita 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 Su 5 e 2 me ne servono Me ne servivano Va bene Signori Allora possiamo farci davvero L'ultima multi adesso Perché abbiamo trovato questo Super boo A 3 stelle Dovrebbe già essere Esatto 3 stelle E Vediamoci un attimo L'animazione Che non ci fanno vedere Da qui forse Vabbè ce la vediamo dopo Uno ce l'abbiamo signori Adesso ha davvero senso Farci davvero L'ultima multi Perché o troviamo Gotenks O davvero Non ci serve più nulla Di quello che troviamo Ok Quindi signori Porta fortuna Non ti tocco Dai mi hai portato sfortuna Prima Va caramente Ultima Ultima Tao Dai 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 Tao Dai Tao Vai Dai che c'è Tao vai 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 Bardak Vai 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 Ditemi che mi portate bene Datemi una Una multi Con almeno due sparking E con una Gotenks terzo Per favore Per favore Dai 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 che ce la facciamo Dai che ce la possiamo fare Sell Seconda Va bene Go Terza Goku Quarto venti Mi devi da adesso La sparking Mi devi da adesso La spark Quinta Ecco la sparking Beh è comunque Super Bu È comunque Super Bu Extreme Dovrebbe essere il sesto No Dai Dammi ne un'altra Dammi ne un'altra Vegeta Extreme Dimmi che ce n'è un'altra Dimmi che No non ce n'è un'altra Super Bu Quattro stelle Super Bu Quattro stelle Che ok Ok Però volevo Gotenks Madonna Quante stelle Sto già Va bene 5 chiudo 5 chiudo Poi va bene 5 chiudo Poi va bene Mannaggia No Una navicella No Non dovevo farmela Mi sa Dobbiamo chiudere Per forza Perché c'è l'anniversario C'è l'anniversario Quindi o chiudiamo O chiudiamo Manca Poco più di un mese O poco me No poco più Poco più Mi sa Krillin Goku Pike one Extreme Freezer Va bene Vegeta Extreme ancora Niente Niente Un cession Extreme Buona Incredibile Extreme Che mi serve Niente è andata questa Dai è andata È andata Non dovevo giocarmela Caspita Non dovevo Giocarmela Signori Devo chiudere qui Va bene così Perché altrimenti Davvero Rischiamo di buttare Soltanto Abbiamo buttato Quanti Crono Crystals Buttato Vabbè Ne ho speso 5.000 Cronocrista No Sì 5.000 5.000 E ne ho spese anche 1.000 In più di quanto Ne volevo spendere Sinceramente Comunque ci portiamo A casa Super Buche Non ho Sto Ma che non c'è Un'animazione Sto qui Possibile Comunque Possibile Che lo andremo A provare Più 22% Altag Regeneration Base Blast Attack Possibile Che lo andremo A provare Magari in regen Almeno abbiamo Un personaggio In più Da poter utilizzare Anche se il mio regen Purtroppo È quello che è Quindi nulla Signori Direi che possiamo Terminare qui Ovviamente La mia ricerca Per quanto riguarda Gotenks Non si conclude Qui Poiché Avremo Poi vi aggiornerò Ovviamente Avremo 18 giorni Di tempo Per poter fare Delle singolette Giornaliere E quindi Per provare A cercare Questo personaggio Insomma Vediamo un pochino Come va a finire Quindi Mi piace Commenti Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Condividete questo video E noi ci diamo appuntamento Come al solito Con un prossimo Video Sto sincronizzando Ragazzi sono stupido Mi sono lasciato andare Un'altra multi Mi sono lasciato andare Un'altra multi E Però pare che ci sia Una sparking Qui Scute Meno male che l'ho fatta Allora Meno male che l'ho fatta 6.000 Chiudiamo 6.000 Chiudiamo Sono stupido Sono stupidissimo Non ci credo L'ho visto da lì Sono stupidissimo Non la dovevo fare Però Ho staccato il video Ho detto Ma perché Gotenks Gotenks Yes Trovato Yes No No Allora No Non dovevo Blazi Non dovevi Questa cosa Non dovevi farla Non dovevi Perché così Succedono i guai No Però No 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 Dai Ne posso Raga Guardate le cc Cioè Le vedete Le stesse È giusto Una Ed una Sola Multi Rispetto a Quell'altra Rispetto a dove C'eravamo fermati Meno male che mi son Fatto Non so come farvelo Vedere Che ho fatto Solo una Multi Ah guardate Dalle energie Su Dalle energie Su Come si chiama Dalla stamina Ecc Gotenks Su Eccolo qui Trovato Gotenks Oh bellissimo Stupendo Signori Basta Chiudiamo davvero Qui a sto giro Chiudiamo davvero Qui perché Già faccio Altrimenti Già faccio Chiudiamo davvero Grazie a tutti.